la ferma ma ribatto ma ciacca penso di sì aspetta siamo prima che passa e poi lo buttiamo di sotto perché deve passare il momento dalla parte pianta dove c'è l'acqua però butta di sotto sperando che il treno passo non ti cazzo ma il civile non si sveglia senti se no no se lo fa lui è brutto quello il problema marcosetto al cavallo bravo e cagli e spasmo il tuo cavallo non deve calmare ma non ho capito perché richiesto lui non è finito lui addosso un altro cavallo guarda quando era lenta al treno sa come se dovessi buttarlo giù dalla scogliera quando arriva quando arriva dove è l'acqua c'è il posto più profondo dove c'è l'acqua ecco qua ma vediamo un po' se me lo fattirà giù perché io non so neanche se me lo fattirà giù guarda di lo fa volare ma non lo fa volare sotto eccolo potrebbe volare di sotto potrei volare di sotto per moto mentre cagli e giù è proprio morto e non è che era molto profonda qui l'acqua c'è un bel bambino è un bel bel salvo la crisi lei dira proprio sulla riva si